E' il caso di dire siamo a Crotone, questo nostro concittadino ha un problema molto serio che vuole porre all'amministrazione comunale, al sindaco, ha la moglie invalida e lui nel pomeriggio, alla mattina, vorrebbe portarla al mare perché la moglie ha diritto di andare al mare d'estate, soprattutto con questo caldo è andato al mare qualche giorno fa e cosa è successo? Domani e mi hanno cacciato i carabinieri perché non sono i parcheggi dei disabili e sono dovuto andare via come sono sceso? Sono dovuto andare via. Insomma, io come devo risolvere questo problema? E' possibile che i disabili al mare un anno ieri nel suo paese? Che siamo avuti al mondo? Datemi una spiegazione di come non sono avuto il problema. Allora, avete sentito, lui deve portare i soldi per andare in un lido, non ce l'ha ovviamente la moglie vuole andare al mare e ha diritto di andare al mare ma l'amministrazione comunale non ha realizzato parcheggi per disabili lì nell'area del mare e quindi alla moglie gli è stato tolto il diritto di andare al mare. Questo è tutto. E' la verità, perché scendo il pomeriggio e non so dove dove metterla la macchina. Ogni volta che mettono la macchina lì dentro vengono i carabinieri e mi cacciano insomma, non ha disabili un bagno se lo ha di fare a mare o se lo ha di fare o non ha diritto di andare disabili se lo ha di fare un bagno a mare Datemi una spiegazione.